Antonella Consolto è presidente della categoria delle tinte lavanderie di Confartigianato Pescara. Questo è un incontro davvero molto importante perché sono stati toccati argomenti che magari tra di voi non si nemmeno sospettavano, vero? No, assolutamente. Infatti abbiamo scelto questa volta di curare l'aspetto comunicativo del nostro lavoro. Anche perché sappiamo oggi i tempi sono cambiati, non basta più assolutamente essere dei bravi artigiani o dei bravi industriali tecnicamente preparati, ma si ha bisogno comunque di avere una preparazione proprio nel comunicare, nell'accettare il cliente, nel farlo sentire importante e quasi unico. Francesca Rampi, lei rappresenta questa azienda che produce detersivi per la tinte lavanderie e ha collaborato con Confartigianato Pescara. Questo è un incontro davvero singolare, come abbiamo detto prima, con la presidente di categoria. Siamo un'azienda di Mantova che ha una rete sparsa su tutto il territorio nazionale. Desideriamo non solo dare dei prodotti alle lavanderie, ma desideriamo anche alzare il livello, fare in modo che la lavanderia cresca e possa quindi dare un servizio ulteriore, un servizio e una consulenza, in modo tale che il cliente si senta accolto. Paolo Manocchi, esperto di comunicazione, che incontra le categorie, non solo questa ma tutte, per dare degli input importanti, cioè migliorare la consapevolezza di se stessi, migliorare il rapporto anche con il cliente, insomma è comunicazione pura. Sì, di fatto ormai non c'è più categoria, piuttosto che attività professionale, dove la comunicazione interpersonale non abbia trovato spazio evolutivo. E quindi l'idea di oggi, di questa mattina, è condividere con i colleghi, che in questo caso si occupano delle lavanderie, di prendere coscienza che ci sono aspetti della relazione che possono e fanno la differenza. E allora il nostro atteggiamento mentale, tanto per dirne una, incide sulla modalità di comunicazione, sulla mimica, su quello stato di agio o disagio che puoi avere in quel momento e che fa la differenza.